Oggi da Villa Materdomini, detta anche Villa Grassi ad Arnesano, nell'Interland di Lecce, racconteremo la vita e le opere del principe Sebastiano Junior, apostolico Orsini Ducas, luminosa figura del Salento autentico che rappresenta la più nobile nobiltà della Lecce ottocentesca, colma di slanci e promotrice di grandi ideali per la società del tempo. Tra il profumo forte dei pini e l'imponenza dei cipressi che ostacola lo sguardo, la strada per Villa Materdomini sembra nascondersi irrimediabilmente tra le pieghe e gli stradoni della bella campagna di Arnesano, incorniciata da un rosario di residenze eleganti e antiche masserie. In realtà non serve addentrarsi tra sentieri e muretti a secco. Villa Materdomini, celata da un corteo di altici pressi, si rivela presto in un ampio colpo d'occhio che immediatamente trasporta anche un viandante casuale, indietro di quasi due secoli. Infatti, Villa Grassi, così è conosciuta da Arnesano, nasce verso la metà dell'Ottocento con la famiglia Apostolico, anzi, per opera e intuizione di Sebastiano Senior, apostolico Orsini Ducas, presidente della Gran Corte Criminale nel 1838, originario di Nocera Inferiore, che usò il nome di una località dell'Irpinia, Materdomini, per il meraviglioso edificio della Villa Salentina con torre merlata, che sorse accanto a quello della masseria, unica struttura già esistente e dove trasferire la sua famiglia proveniente da Napoli, Nocera. Questo piccolo mondo antico è stato riportato in vita dal film di Ferza Nozpetek, Minevaganti, che ha scelto proprio Villa Materdomini come ricercato palcoscenico per i suoi personaggi appassionati e ha riacceso i riflettori sulla splendida residenza di campagna della famiglia Apostolico prima, Grassi poi. Personalità autorevoli hanno dimorato qui a Villa Materdomini, come il principe Sebastiano Junior Apostolico Orsini Ducas. Il principe Sebastiano Junior Apostolico Orsini Ducas, con sentenza della Corte d'Appello di Trani del 22 giugno del 1908, fu riconosciuto discendente diretto di Giovanni Orsini e avente diritto, quale erede della dinastia che regnò come despoti sull'Epiro e sulla Tessaglia, al trattamento di altezza e al predicato di Leucade. Dall'antico feudo di Materdomini derivava il titolo di barone di Roma e Montalbino ed era inoltre conte di Santa Maura e principe di Rogus, figlio di Isabella Carissimo e di Giuseppe Apostolico Orsini Ducas poi, giudice a Lecce nel 1860, unico figlio maschio di Sebastiano Senior Apostolico Orsini Ducas. Nacque a Lecce nel 1853 e viaggiò molto per accrescere la sua cultura agraria, che era il suo chiodo fisso. Riuscì infatti a traghettare il Salento fuori da quel sistema feudale in cui il territorio era da sempre impantanato. Mente innovativa e in grado di concretizzare molte delle proprie intuizioni, Sebastiano Junior Apostolico Orsini Ducas fu il primo a parlare, ben più di un secolo prima dei recenti risvolti, di un'autonoma regione Salento. Si occupò dello sviluppo agricolo del Salento e di viticultura, divenendo esportatore di vini pregiati e impiantò una fabbrica per la lavorazione del tabacco. In un panorama caratterizzato da un latifondismo senza scrupoli, volto al massimo dei profitti che guardava ai coloni unicamente come schiene piegate a farsi ardere al sole, Mater Domini rappresentò il primo esempio di masseria agricola illuminata, unica all'epoca a realizzare concretamente un modello di economia, non solo umana e civile, ma anche perfettamente autonoma e funzionale. Sebastiano Junior Apostolico Orsini Ducas fu uno dei pochi a organizzare in maniera efficiente un sistema agricolo basato sulla mezzadria, facendo così finalmente in modo che nascesse anche la piccola proprietà terriera. La terra fino ad allora era infatti stata da sempre faccenda privata in mano alle famiglie nobili. Questa nuova organizzazione permetteva a contadini e coloni di vivere in buoni rapporti con i proprietari terrieri e comodamente all'interno della comunità. Il suo motto era non sorte, sed labore ed indicava proprio la fiducia che egli aveva nella passione di svolgere il proprio lavoro con gli strumenti migliori possibili. Inventò nuovi metodi di irrigazione, introdusse anche l'allevamento bovino, indicò ai salentini di produrre da sé il vino. Attività fino ad allora possiamo dire serva tra virgolette delle grandi aziende del nord. Come già detto costruì proprio qui ad Arnesano Villa Materdomini, eccola qui alle nostre spalle. Una comunità davvero amena, lontana da tutto quello che succedeva poi fuori. Fra i viali di questo giardino, fra i cipressi, fa i pini, si percepisce ancora quello spirito idealistico del principe, come tutto il suo impegno profuso per questa terra. Lecce lo ricorda all'interno dell'ospedale Fazzi, che lui volle tenacemente costruire per fornire la città di una struttura moderna. Fu il primo a costituire il consorzio antifiloserico della provincia, che serviva a proteggere le coltivazioni della vite. Ma si diede da fare anche a promuovere la costruzione di strade, case coloniche, stalle più moderne per gli animali, bonifiche delle aree paludose. Il tutto finalizzato al suo visionario progetto di un salento autonomo dal punto di vista agricolo. La sua casa era il simbolo di tutto questo, una comunità assolutamente autosufficiente. Venendo da Lecce si arriva dalla parte posteriore della sua grande tenuta e si incontrano le case che aveva costruito per i suoi contadini, che qui vivevano stabilmente. Erano tutte case dotate di camionetto per il riscaldamento e ambienti diurni e notturni. Sebastiano Junior, apostolico Orsini-Ducas, fu sindaco di Lecce dal 1908 al 1914 e per 30 anni prima consigliere e poi presidente del Consiglio Provinciale di Terre d'Otranto e delle associazioni dei Musei di Lecce, grande ufficiale della Corona d'Italia, insegnito degli ordini al merito del lavoro di Malta, di San Maurizio e Lazzaro, di San Gregorio Magno ed era anche grande il suo amore per l'arte e per i monumenti della storia salentina. Insieme a Cosimo De Giorgi e a Sigismondo Castromediano aveva costituito la Brigata degli Amici dei Monumenti. Facevano le riunioni nella sua casa di Lecce, a Palazzo Apostolico. La sua casa, come abbiamo detto, era una grande comunità che aveva non solo l'alloggio ma anche una scuola per i figli dei contadini e anche una chiesa. A metà strada sul grande viale si incontra una piccola piazzetta dove i contadini, dove gli uomini si riunivano specialmente alla domenica davanti all'effigie di Mater Domini. Il principe Sebastiano Junior, apostolico Orsini Ducas, non si sposò e non ebbe mai dei figli. Crebbe però come eredi i figli dell'unica sorella che aveva, la principessa Michela, detta anche Michelina, moglie di Pasquale Grassi di Martano, una famiglia antichissima, molto molto nobile. I nipoti aggiunsero al loro cognome quello di apostolico Orsini Ducas. Una di queste era Vittoria Grassi che trascorse la sua infanzia proprio qui a Villa Mater Domini negli anni della seconda guerra mondiale. Un Eden fuori dal mondo in quegli anni rappresentò la villa, solo sfiorato dalla grande storia che bruciava l'Italia. I familiari hanno lasciato di Vittoria un libro in cui proprio lei racconta quella vita, quel Salento che oggi è così mutato, così diverso. Da piccolo a Vittoria chiamava lo zio Apostoccolo e ricorda che aveva anche una grande soggezione verso quest'uomo. Anche i suoi stessi nipoti era un principe solitario, fonte però di numerosissimi aneddoti che agli occhi di una bambina rappresentavano una vera e propria meraviglia. Il sud è il mio mondo e nel sud voglio tornare. Ricordo i tempi passati che sento così vivi in me e vorrei che qualche cosa ne rimanesse. Inizia così una preziosa testimonianza intitolata semplicemente il mio sud. Al principe Sebastiano Iunor Apostolico Orsini-Ducas spetta un altro merito. Sua è stata l'idea della proposta del Salento come regione autonoma della Puglia, che fu successivamente presentata alla Costituente dal Giuseppe Codacci Pisanelli e dal suo discendente Giuseppe Grassi Apostolico Orsini-Ducas, che fu ministro guarda sigilli nel quarto governo De Gasperi e fondatore della Banca del Salento. Ed è noto per essere stato il segretario della Commissione di 75 per l'elaborazione della Costituzione italiana e per essere stato poi uno dei quattro grandi ad averla firmata nel 1947, con Enrico De Nicola, Alcide De Gasperi e Umberto Terracini. Fu proprio il ministro Grassi Orsini a portare avanti il sogno del suo avo e assieme a Codacci Pisanelli si batté per la istituzione della regione Salento. Era l'ottobre del 1947, ma il progetto di istituire la regione Salento nafragò, in modo non del tutto chiaro. In quei giorni l'Assemblea Costituente, dopo averne approvato la nascita nell'apposita sottocommissione presieduta da Umberto Terracini, con un improvviso colpo di scena, decise altrimenti e la storica ferita si consumò il 29 dicembre del 1947 dinanzi all'Assemblea Costituente. In quella sede il progetto di creare una regione salentina autonoma sfumò in una bolla di sapone e prevalse un disegno contrario, portato avanti dall'eccese Aldo Moro, docente dell'Università di Bari e quindi legato agli interessi politici baresi. Disegno sottoscritto dal democristiano De Gasperi e dal comunista Togliatti, in un patto scellerato per le popolazioni salentine, al cui centro vi era uno scambio di favori che culminò nella soppressione del progetto istitutivo della regione Salento e di quello per dar vita alla regione Romagna. Infatti furono formalizzate insieme alle altre 18 la nascita della regione Emilia-Romagna e della regione Puglia, mortificando il sogno dei romagnoli e dei salentini. In un'agile pubblicazione di una ventina di pagine dal titolo La penisola salentina costituisce una regione data alle stampe il 10 gennaio del 1927 presso lo stabilimento tipografico Bercole e Mucciato, succursale di Roberti, sito a Lecce in via Giuseppe Libertini, numero 35, il principe Sebastiano Junor Apostolico Orsini-Ducas parlava della costituzione della regione Salento quale forma moderna di raggruppamento di funzioni, per lo innanzi attribuite alle province stralciate da una o più di esse e portate nel capoluogo della regione, a cui vanno attribuite altresì alcune mansioni discentrate dalla capitale. Sottolineando come la penisola salentina non possa essere aggregata ad altra regione, ma debba formare una regione da per sé sola e partendo da alcune premesse, illustra il concetto che la penisola salentina per i suoi caratteri costituisce una regione a sé, affatto distinta dalle province limitrofe. Per arrivare a questa enunciazione incomincia la disanima dal punto di vista idrografico e geologico per i caratteri etnici, infatti i messapi si distinguevano dagli altri popoli limitrofi che si chiamavano Peucezi e Dauni. Per il linguaggio, dialetti e pronunce del tutto particolari per la storia di questa regione che si è svolta con caratteri originali, del tutto speciali e ancora affermando che Lecce è stata sempre ed è il centro propulsore di pensiero e sentimento di tutta la regione. I nomini sommi nati in Lecce o quivi immigrati da vicini comuni, attratti dalla feconda orbita della luminosa città, hanno spiegato la loro elevata azione per cui in tutte epoche hanno emerso i suoi figli naturali o di elezione. Che è inutile poi ripetere che la posizione geografica della penisola salentina determina di fatto condizioni speciali di ambiente, che la natura ha disegnato la nostra terra quale un tallone stretto e lungo, che di questa lingua di terra tra i due mari, messapia vuol dire terra fra il mare, è centro geografico Lecce, equidistante da ogni periferia. Ed infine che la penisola è poi assai lontana da Bari. Concludendo che la Puglia è ben vasta, quindi sarebbe opportuno che due regioni ne formino l'ossatura e così l'un l'altra, affratellate, darebbero maggiore rendimento nell'economia, nelle opere civili, nelle manifestazioni geniali. Sebastiano Junor, apostolico Orsini-Ducas morì nel 1931. Fu una grande figura di uomo ottocentesco, romantica, idealista, ma anche molto pratica, che proprio qui ad Arnesano creò in questa grande villa materdomini una comunità autosufficiente per la sua famiglia e per i suoi contadini. Un luogo ideale, anche questo come quello della regione Salento, un grande sogno, come si usava una volta. Questo è stato il mondo del principe Sebastiano Junor, apostolico Orsini-Ducas. Uomo davvero d'altri tempi, con il grande ideale di una terra da amare, di una terra da custodire, di una terra da proteggere. L'ideale di un grande principe.